Allora rientrami in onda qui dalla piazza del municipio di Pomaretto mentre ancora vediamo molti marciatori, noi li stiamo chiamando marciatori, adesso scopriamo se è la parola giusta, sotto l'arco dell'arrivo o qui di fianco a me uno degli organizzatori, quello a cui in queste ore tutti stanno chiedendo delle domande, facendo delle richieste, l'abbiamo strappato un attimo da qualcuna di queste, Omar Riccardi benvenuto. Grazie, grazie a voi e anche ai teleascoltatori, ma sì, diciamo noi li chiamiamo marciatori e solitamente vengono chiamati camminatori o fitwalkers da fitwalking, noi anche l'anno scorso abbiamo come dire battuto molto su questa parola marciatori proprio perché la manifestazione non l'abbiamo neanche chiamata camminata ma l'abbiamo chiamata marcia delle valli valdesi. Sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo puntato molto su quello che vuole essere una riscoperta di queste valli, in particolare la Val Chisone, la Val Pellice, la Val Germanasca. L'anno scorso eravamo un po' in un comune che sta un po' sul confine, Val Chisone sì e no, dalla parte alta si affaccia sulla Valle Angrogna, quest'anno siamo in Val Germanasca, chissà che il prossimo anno non saremo da qualche altra parte. L'idea principale è quella che questa marcia con i suoi marciatori sia una manifestazione itinerante e che quindi ogni anno possa spostarsi in un comune diverso delle tre valli, la Val Pellice, la Val Chisone, la Val Germanasca, in modo da potersi comunque diffondere e soprattutto portare ogni anno persone in posti nuovi e poco conosciuti. Mi sembra di capire che tra l'altro l'idea sia anche quella di far all'interno di questi comuni di volta in volta, insomma, non fare un giro unicamente basato sull'altitudine, unicamente basato sul lato atletico, ma anche percorrere delle zone particolarmente suggestive. Esattamente proprio così, essendo una camminata non competitiva, non ci interessava nel chilometraggio e nel dislivello, questo già l'anno scorso, ancora di più quest'anno. Quello che invece ci interessa e ci sta a cuore, in particolar modo qui a Pomaretto, abbiamo potuto farlo al 100% o forse 110% insieme al sindaco Danilo Breus e all'amministrazione, era quello di far conoscere alcune realtà di Pomaretto. In particolare uno dei tre ristori era al Ciabot, dove in tutti questi anni si è investito molto, si è lavorato molto, c'è stata una riscoperta dei cosiddetti vigneti, erano chiamati vigneti già prima, sono diventati vigneti eroici, i vini eroici di montagna. Tra l'altro, l'altro giorno eravamo a tracciare insieme a Lele Gabaglio di Escuri Usando Trekking, che è un'altra delle associazioni che ci ha dato una grossa mano quest'anno e anche l'anno scorso, e parlando con i signori che gestiscono il Ciabot veniva fuori come ci siano veramente tantissimi turisti stranieri e ci citava cinesi, giapponesi, statunitensi, sudafricani, francesi, tedeschi. Devo dire che per noi questo è, come dire, tanta gioia e ci fa felici perché ovvio qui sono arrivati, come dire, per delle attività che ha promosso il Comune in tutti questi anni, il nostro piccolo contributo l'abbiamo portato quest'anno, già dai primi commenti in questi giorni precedenti alla partenza della marcia e anche oggi durante sul percorso e anche qui al Pasta Party, molti ci hanno detto che è un posto stupendo, che è impossibile pensare che una cosa del genere con questi terrazzamenti possa essere a un'ora di macchina da Torino. Ecco, queste sono le risposte o i commenti che a noi piace ricevere, perché se riceviamo questi commenti vuol dire che abbiamo fatto centro, abbiamo fatto bingo, stiamo, come dire, promuovendo un territorio e lo stiamo facendo nel modo migliore, facendo conoscere tutte le sue, come dire, realtà e le sue chicche anche enogastronomiche. Come sta andando quindi la giornata di oggi? Chiaramente c'era questa grossa incognita del meteo e che, insomma, ha anche un po' bagnato alcuni dei marciatori, però, insomma, mi sembra di vedere molto entusiasmo, direi che sta andando piuttosto bene. Sì, devo dire che nonostante quei 30 minuti di scroscio decisamente importante che ha fatto, che è partito prima dalla Basta Valle e poi si è spostato in alto, devo dire che vedere arrivare persone che arrivano qui sorridenti, con in mano una bottiglia di vino comprata al ciabò durante il ristoro, ecco, devo dire che vuol dire che le cose sono andate bene e la gente è soddisfatta, contenta e felice. Poi, come dico sempre, io organizzo gare da un po' di anni, le critiche e i suggerimenti sono sempre ben accetti perché, nonostante ci si organizzi da tanti anni, c'è poi sempre qualcuno che magari può avere un'idea migliore della tua o vedere le cose in maniera diversa e quindi ci può dare anche dei suggerimenti per migliorare nei prossimi anni e quindi ne terremo conto, ne faremo tesoro e il prossimo anno cercheremo di migliorare magari su quegli aspetti che qualcuno ci ha fatto notare. Tra l'altro, parlando di prossimo anno, non ho ancora nulla da chiederti chiaramente perché immagino l'idea, però mi ha fatto molto piacere, abbiamo intervistato poco fa due marciatrici camminatrici che mi hanno raccontato che si erano conosciute ad un'altra camminata, non si conoscevano assolutamente prima, da allora hanno cominciato a frequentarsi soprattutto per fare delle camminate del genere, quindi hanno partecipato alla prima, quella dell'anno scorso, a quella di quest'anno, insomma, e anche è anche bello il lato puramente umano di tutto questo, insomma, chiaramente al centro c'è la camminata e se uno non ha nessuna voglia di farsi una camminata in montagna, chiaramente questo non è l'appuntamento adatto, però insomma è anche bello creare un po', non so se è una parola esagerata, però creare un po' comunità anche attorno a queste cose. Ma se è passato questo messaggio, allora abbiamo fatto centro anche su questo perché camminare in montagna non è come camminare per esempio in centro a Torino in via Roma. Cioè la montagna è unità, la montagna è solidarietà, la montagna è condivisione della fatica e condivisione magari in quella giornata di sole in cui rimane un litro d'acqua e si è in due, condividerlo, condividere magari la barretta, condividere anche magari un acquazzone e quindi magari prestare un giveaway che magari uno ha in più all'amico o magari, come è capitato a me a volte in gara, di aiutare un concorrente che invece neanche conoscevo e che arrivava dall'altra parte del mondo. Ecco, questa è condivisione, comunità e fare aggregazione. Se siamo riusciti a trasmettere questo messaggio o comunque anche ad amplificarlo vuol dire che siamo stati tra virgolette bravi e mi prendo a nome di tutte le organizzazioni, di tutte le associazioni che mi aiutano questo merito. Per quanto riguarda la partecipazione di persone alla prima o alla seconda, devo dire che la cosa che mi ha stupito e che non mi aspettavo è che su 620 iscritti il 30% aveva partecipato alla prima iscrizione, che è un numero, vi assicuro, altissimo. Perché se nelle gare di corsa, che è un altro pubblico, un'altra utenza, c'è un attaccamento alla manifestazione, magari l'anno dopo per vedere se uno ha fatto un minuto in più, un minuto in meno, su questo genere di camminate magari non è proprio così scontato. E avere un 30% di ritorno vuol dire che evidentemente l'anno scorso la manifestazione è piaciuta, il giudizio è stato positivo e la gente ha deciso di ritornare. Quindi appunto, non posso chiederti granché rispetto al prossimo anno, perché non c'è ancora molto da dire, ma invece c'è per caso qualche appuntamento da assegnarci invece più vicino? C'è qualcosa in arrivo, qualche appuntamento sportivo di qualche tipo? Allora, io mi occupo anche del coordinamento del circuito Pineran, che è il circuito di corsa podistica del territorio pinerolese. I prossimi appunti sono la Lazzaran, sono il corso in montagna del Monservin e poi a seguire ci saranno altre non competitive. Stiamo lavorando però per una gara che si terrà a settembre, di cui non dico nient'altro, faccio come si dice in gergo da giovane, anche se non sono uno spoileraggio, che sarà una gara pazzesca perché è ambientata in un posto incredibile, che sarà alla fine di settembre, alla quale ovviamente inviteremo anche voi, ed è un'altra, credo un'altra chicca che andrà a portare in primo piano una realtà di questo territorio veramente fantastica e noi faremo di tutto per farla conoscere. Bene, bene. Quindi l'ultima cosa per seguire, per scoprire tutte queste date, scoprire questa gara misteriosa, dove vi seguiamo? La gara misteriosa mi piace. Potete seguire la nostra pagina Facebook Marcia delle Valli Valdesi, oppure la pagina Facebook Pineran, che è quella del circuito, dove noi pubblicizziamo sia le gare competitive, ma anche le camminate e le gare non competitive. Perfetto, grazie mille Omar e buon lavoro. Grazie a Radio Beckwith, che ci segue fin dall'inizio e ci dà comunque la possibilità di portare, diciamo, il più lontano possibile il nostro messaggio. Grazie.